Post gara Adragas-Sanluca in sala stampa Giuseppe Deni che sicuramente ha amareggiato per la sconfitta. Diciamo che sono le ultime battute finali di una stagione in cui abbiamo mantenuto fede alla promessa iniziale, quella di salvare la categoria e da qualche settimana ci siamo riusciti. E' chiaro che oggi mi aspettavo da parte dei ragazzi una prestazione diversa, perché al di là del risultato noi siamo l'agragas, per cui invece oggi credo che i ragazzi erano già con la mente in velleggiatura, per cui oggi abbiamo dato disposizione al settore tecnico di domani fare allenare la squadra, di fare capire che ancora ci sono due settimane e vogliamo che l'agragas concluda il campionato sudando la maglia, quella gloriosa maglia che merita il rispetto. Siamo a fine campionato, salvezza acquisita, che stagione è stata per l'agragas? È stata una stagione travagliata, perché il pubblico agrigentino è un pubblico di bocca buona, e in qualsiasi categoria l'agragas si militasse bisogna sempre fare una compagine che lotta per la fittoria finale. Ed è chiaro che quest'anno, che per noi è un anno di transizione, è un anno dove dovevamo consolidare la categoria, abbiamo fatto l'esperienza e abbiamo deciso che se il mio gruppo sarà ancora in agragas, e se credo che ci sarà, l'anno prossimo alzeremo un po' la barriera per fare un campionato da protagonisti. State già lavorando per la prossima stagione? Assolutamente sì, per questo avevo chiesto alla squadra un ulteriore impegno di fine stagione, perché noi stiamo lavorando bene, con risultati buoni, ad allargare la base societaria, e avevamo bisogno del supporto della squadra per poter dire signori miei, noi siamo l'agragas, l'anno prossimo dobbiamo alzare per forza il tiro, se no i risultati sono questi, pubblico che non viene a vedere lo stadio, i giocatori dell'agragas, per cui diciamo che si rischia di fare altri campionati anonimi, e noi invece vogliamo fare un campionato, il prossimo campionato sicuramente, e questo lo posso affermare, rimanendo noi in agragas, e come dicevo prima abbiamo tutta la volontà di rimanere, sarà un campionato da protagonisti. Il futuro dell'agragas passa da cosa? Il futuro dell'agragas si passa, noi abbiamo un progetto in testa, diciamo che lo renderemo pubblico nei prossimi giorni, in quelle che sono le sue dinamiche, i suoi aspetti più importanti, è chiaro che la concessione dello stadio comunale è un passo obbligato, perché dobbiamo adeguare il campo a tutta una serie di cose, per cui una delle priorità dell'agragas è quella della gestione del campo, ma non solo quella, poi dovremmo coinvolgere l'imprenditoria della provincia, tutta l'imprenditoria si deve rendere conto che dobbiamo puntare a puntare tutte le forze ad una compagine che dovrà militare in campionati sicuramente professionistici. Un'ultima domanda, ai tifosi dell'agragas cosa può premettere, quale messaggio vuole lanciare? Ma io i tifosi li ho sempre guardati con un occhio particolare, con molto rispetto, diciamo che quello che posso dire è di starci sempre vicini, perché questa società si attrezzerà per il futuro, e di pensare tutti che abbiamo un obiettivo e un amore, che è l'agragas, per cui diatribe, malintesi, li dobbiamo superare tutti, per un obiettivo comune è quello di vedere l'agragas nei campionati e nei terreni di gioco che merita.